di show quindi ogni ogni pedina c'ha quattro azioni quattro azioni sì sì quattro azioni ogni piede quanti colpi hai detto che c'hanno le armi no infiniti 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 lancia fiamme lancia fiamme secondi e la gatling un caricatore da 10 un secondo radice salvo un attimino almeno quindi lancia fiamme sparatista colpi non fa più nulla fine quello lì con lancia fiamme va in corpo a corpo e basta non c'ha più carica e non c'ha più nulla quindi occhio è la pedina più forte del gioco ma ovviamente chi questa quello con lancia fiamme di mano e beh ci sta che ce l'abbia lui perché almeno c'ha le tre entrate lì se ne entrano beh che poi alla fine non c'entra molto le entrate tanto che i soliti a il lancia fiamme l'unico che non si può mettere in overwatch è l'unica anculata ah ok lui non ci può stare ok perfetto tre gli rimane un'azione non è abbastanza a parte non ci può andare in overwatch però in difesa si è ce la può mettere solo in overwatch no e basta ora il lancia fiamme fa una cosa il lancia fiamme spara questo piattellone qui che ti blocca tutto quanto il corridoio e persiste anche nel turno del nemico è ok quindi se ti ora anche un c'è nessuno e lo spari qui io magari di 15 faccio spawn a nessuno si ok però se io nel mio turno li faccio muove qui per ogni casella che passo tiro dato da 6 con 2 o più l'ammazzi capito ok allora quanti sono ok lui si ferma qui ok ok allora loro arrivano dietro ok non vuoi usare punti penso comando ok vai tocca il relle ah ok vai lì però cioè non entri no 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 volevo solo che mi cade perché c'è la porta ah ok 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 poi come è bello vederlo zoomato 1 2 3 e quello lì il robottino dove lo mandi lo mando vicino aspetta lo poggio lì robottino si può muovere come vuole anche e retromarcia perché un cingolato non può essere distrutto è però l'unica cosa se io ti ci metto un alieno sopra ci sta che te lo controllo io ok ok però non può essere distrutto almeno per quello vai vai tranquillo dove lo metti lo metti lo piazzo dove c'è il tipo qua la porta io ogni turno ne tiro fuori due di blip sì 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 ok capito quindi ora per farvi vedere un pochino come funziona metto un blip che entra da di qua e ovviamente devo muovere subito e un altro blip e un altro che lo metto da di qua e si muovono di 6 fino a che non ti entri in visuale non si vanno a rivelar quindi 1 2 3 4 5 e 6 questo qui così ora ti faccio provare a mano se vuoi vedere com'è 1 2 ora prima di entrarti in visuale devo per forza rivelarlo ok quindi ricordiamoci che ha già fatto due lo rivelo la metto nella pila degli scarti questi sono scartati e ce n'è due quindi avendoli rivelati io decido come metterli quindi il primo il primo qui e il secondo qui ok e hanno fatto due movimenti quindi ce n'hanno ancora quattro a testa ok faccio 1 2 ti vengo ancora contro 3 e 4 se vuoi sparare mi devi interrompere me lo devi di prima e col secondo faccio 1 ora faccio una cazzata ma perché tanto è una partita di prova prima di com'è 1 2 3 perché non l'avrei fatta ma in vita mia e lo metto qui quindi sprechi una delle cariche ricorda che ce ne 5 metti aspetta li sposto un attimino mettici il piattellone poi ce li rimetto sopra tanto loro erano 1 e 1 qui ora tutta l'area incendiate non solo questa via si fa conto che tutto è incendiata tutto il corrido ora per il primo tira un d6 per il secondo prima facciamo il primo questa via davanti allora quindi un d6 a testa si due più allora il primo l'ha ammazzata via secondo l'altro ma la madonna ok vai anche il secondo ho visto l'uno mi sono sentito male capito vabbè tanto comunque rimaneva incendiata lo stesso no no perché li blocca la strada lui ok allora faccio due ora una buona cosa se ti ricordi quello che ti ho detto prima lo posso tornare indietro dopo si puoi retrocedere certo ma perché visto che c'è ancora due punti azione non lo metti in overwatch eh esatto ok metti gli simboli in overwatch accanto lo prendi glielo metti accanto un servizio sulla stessa per capire insomma che ce l'ha che ce l'ha lui vai perfetto ora questo tutto quello che si muove da qui in poi lui li spara domanda se se loro mi tipo mi vengono no aspetta se dopo voglio toglierlo e spostarmi costa altri due no però ricordati che se ti vuoi muovere andando in retromarcia costa due invece che uno ok però quando tolgo quello lì l'overwatch invece devo togliere l'overwatch l'overwatch si si toglie a fine turno quindi quando finisce la fase dei mostri automaticamente si toglie lo devi rimettere lo devi pagare ogni volta infatti più senso sì se non sarebbe troppo forte tre quattro ok uno ah no aspetta no no va bene no no non è sbagliato non l'ho girato è uguale è uguale è uguale no ah ah per andare lì ok sì e aspetta era uno due tre quattro quindi così uno due no hai sbagliato relli torna lì dove eri e questo allora l'hai mosso da qui ok quindi è fatto è uno due tre l'hai girato e quattro ok questo così e lo lo piazzo ok perfetto e li rivelo ed è uno soltanto è andato male è andato male è andato male a me allora intanto questo ha fatto uno due tre ora ti faccio vedere poi fa quattro spara overwatch tira tre dadi aspetta vai tre rossi ok col cinque o sei colpisce quindi ok allora leva un colpo manu dalla mitra elettrice e lui è morto vai era spappolato e uno di qua alle no aspetta così no così non mi serva un cazzo no e uno di vambici e faccio uno due tre quattro cinque sei uno due tre quattro cinque e sei vai ok puoi sparare e volendo perché era comunque contato movimento tira due dadi e se fai un 6 su uno dei due la rotta se no non è colpita niente l'ha colpita ma non l'ha distrutta ok quindi poi lui fa questo è il mio gioco preferito è della gv ti giuro si si è sempre sta ce l'ho anche reale tre e quattro si mi ricordo ho visto nel video no lo adoro lo adoro cioè il gioco più bello di questo non lo faranno più uno no però aspetta mi hai detto che in diagonale non può eh si si poi basta che non ci sia nessuno che lo blocca qui capito ah ok 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 quindi fa se era così si muove fa uno la scusa due spara che c'è l'hoverwatch si tira due dadi da sei colpisci solo col sei si ma tirale a modo no cioè li tirava armi nonnosi prima di morire tirale a modo allora mancato poi re visto che ancora in overwatch continua ora becchi col 5 o 6 è perché il fuoco sostenuto allora il primo era qui il ziondo ovviamente non te lo posso buttare in visuale quello non lo posso fare mancherebbe l'uniosa è l'uniosa che non posso farlo è capito esco dalle fottute pareti allora uno è una ose manca questo ciò sono un po di condutture però non sarebbe brutta ma in regola si tipo cose nascoste allora lui fa lui con lo solito movimento e ora ora si guarda tanto muovo loro uno per volta quindi faccio uno vai overwatch con lui gemmata l'arma quindi si è bloccata si però c'è un problema che ti sei gemmata l'arma e ti va via l'overwatch utilizzo un punto e la sblocchi si te lo levo però un sparo uguale quindi ho fatto che tristezza è uno due tre e attacco questo e attacco questo no tre e mi sono girato si che non mi costa niente a me girarmi fa vedere lo leggo un attimino ma mi sembrano gli occhi quindi quando scusate l'arma si gemma cosa significa perdonatemi nello spiegare si inceppa a se si inceppa con l'overwatch si già ho capito ho capito ho capito sono immenso la merda a tre e tiro i dadi quindi uniti perché sono bloccati questi allora io tiro tre dadi e te qua l'eccolo lì normale ne tiri una mano quindi devo tirare uno ho 5 o 6 5 si va in pareggio 6 morto quindi lui è stato sbrannato lì quindi ho fatto ho fatto 3 4 con l'attacco o altre due azioni 4 ma anche quella puntana mancherebbe art ad 5 vai no giallo lui se si si lui si 5 niente e te l'attacco con l'ultimo attacco quindi lui visto che è un sergente tira più uno tira il più uno però c'è anche l'abilità perry che dammi un secondo soltanto praticamente mi mi fa ritirare un dado a tua scelta quindi te quanto hai fatto ho fatto uno vabbè due quindi hai fatto due mi sa che sei andato il 6 ritirò il 6 però c'è anche un 4 quindi è andato a merda mi dispiace ma anche il sergente è andato via puttana andata che sergente te l'ho detto un attimo perché voi siete potentissimi ma un attimo non tenta il tiro e lui ha finito le azioni poi era un'altra cosa io c'ho il blocco invece no il terry gli faceva far risolvere un dado mi sembra te invece lo rimuovi un dado ah ecco si praticamente solo se ti attaccano di faccia quindi di schiena non vale mi puoi togliere un dado quindi te tiri un d6 un d6 più 2 mi togli un dado a me a tua scelta vai tira però aspetta no io ho due dati perché sono anche in guardia ehm sì 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 quindi ne tiro due tu invece quanti ne tiri? te tiri due d6 più due e io ne tiro tre ma me ne levi uno prima tira te ah ok ovviamente scegli quello più alto porca la puttana ok quale mi togli? beh guarda questo qua ma non... vai ok me l'hai spappolato vai e andiamo terminator e dagliele ora uno due tre quattro uno spara oh no non becca più un cazzo e inceppi anche l'arma guarda e inceppi anche l'arma perché è fatto a doppio quattro quindi adesso l'overwatch cosa fa? si gira? si si leva di culo si gira metterlo dall'altra parte aspetta eh gira ok io ho fatto scusa ero qui uno due tre quattro c'ho due attacchi ti faccio il primo ti tira sempre i tuoi due d6 più 2 allora ce l'ha fatta quindi il buono appuntana la migliacca allora ti hai fatto 6 e io ho fatto 5 penso che tu mi tolga il 5 anche se non lo togliessi cosa succederebbe? sono morto uguale quindi ah ma quindi sei morto ok e ora faccio il terzo faccio uno due tre quattro cinque ti riattacco riandiamo un'altra volta tanto li so io e li vedo io con loro non ti preoccupare ah ti hai fatto 4 più 2 6 penso che mi toglierai un 5 quindi anche questo è morto porca la puttana e andiamo grande terminato hai visto cosa vuol dire quelli da corpo a corpo? ok allora quello che vuoi fare quindi lui si va qui con due punti si cioè con due azioni si gira con tre e ti spara lì ti spara lì ok quindi mettici il piattellum e tira il dado da 6 i due dati da 6 si no 1 1 1 scusa 1 si bravo niente è questo ancora vivo è qui che brucia ma ancora vivo era qui questo era vivo ah no è becca ah no è nella stanza puttana c'eva tira si cazzo si tira ti viene morto ah perché è da due in su si col due o più le uccide poi utilizzo sembra di concedi rally tre punti di comando quindi no aspetta no aspetta lui con due punti comando si rimette qui e e lui va in overwatch però due ne ha usati i punti comando allora si si ok due sto pensando di fare una cosa ok ok è lui in overwatch vai direi che ha finito eventualmente la faccio ok la rivelo tanto ho bisogno di sapere quanti sono quindi riveliamola subito e so due vedi però che li tolgo un po' mi ricordo dove erano erano tipo qui era era vicente allora visto lo metto vi e quello dietro questi invece fanno fai vedere un po' no allora fanno 1 e 2 e 1 e 2 così questo qui questo fa sono infuriati 1 2 vai overwatch ok sono infuriati contro di si si ce l'ha con me ha detto andiamo da lui che bisogna rosicare un po' vai ingemmata ingemmata ma porca cazzo e che palle corpo a corpo allora corpo a corpo era due più due ok più due ok 6 potrei ancora pareggiare oh mi lavi un 6 ma c'ho comunque un 6 e quindi e quindi pareggiamo nessuno muore però non muoio nemmeno io ok quindi loro li vedo ah si non ci ho pensato 3 e aspetta mettimici è uno quello come 3 1 1 mi sembrava un 3 eh ok hai vista che lui col gemmino lì dov'era era qui ok qui vai provo a spararli che tanto non consumo azioni giusto o consumo azione no no ti sei mosso quindi no ok hai fatto 3 azioni per ora ok devo sparare gratis nada quello lì è rimasto a metà vabbè niente niente erano 4 e lo metto in overwatch con due punti ok quindi sprechi un punto azione aspetta che ne sto usando un sacco ti ho levato un punto comando vai poi uno fa due tre quattro overwatch vai la vedo brutto per lui però ci devo provare niente 4 5 poco sostenuto eh poco sostenuto dai 5 5 5 5 perché c'è la cosa che culo porca la maiano hai preso il terminator adesso allora questo e fa poi 1 2 3 2 3 4 4 ah scusa 4 tira il bravino c'era cazzo 4 5 poco sostenuto e ora e ora si fa ora tiri un dado da 6 e noi tiro 3 vinca il migliore si è fottuto è morto questo è andato è finita eh di uno doveva andarsene che devo dire addio bastardo e la tua nave del cazzo Ma è finita Intendo dire è finita 1,2,3,4,5 E 6 1,2,3,4 5 E 6 Allora Allora sparocollo lanciafiamme E qui dentro Ok Cosa metti accanto tanto si sa che c'è Quindi un Un dado da 6 per il primo Un di 6 per Per 3 quindi Sì, prima tira per il primo Manu tira a modo Vabbè, primo l'ha ucciso Vai te lo do buono, però tira a modo Il secondo l'ha ucciso Te lo riporto al dado, vai E il terzo l'ha ucciso Tutte e 3, vai Abbrustoliti Ok Eccoli dove E' bloccato 1,2,3,4,5 Vai, spara Overwatch Spara 3? 3, sì, sì Levagli un colpo Come levagli un colpo? Che vuol dire? È perché finisca le munizioni Della Vulcan Ah, non capivo Beh, ce n'hai altri 3 Poi inizia in c'è parte 6 È morto Quindi questo è fuori da giochi Questo fa 1,2,3,4,5,6 Questo è un bel dito nel programma Aspetta Cambio la direzione 2,3,4,5,6 Eh, ma perché? Un è facile buttare giù quello Sì, sì, lo so Vedi tu? No, sto pensando Di fare un altro modo Per difendere Poi Questo qui Inghiettere già di 2 E Spara un colpo Qui in mezzo Ok Vabbè Tanto si sa Intanto tira i dadi Quindi ti do un dado Ah, giusto Perché lì continua a bruciare Sì, vabbè 5 E Ucciso E lì ci mette il coso Quindi ti rimangono 2 colpi Vai 2 Ah, aspetta L'hai fatto andare indietro Quindi ha fatto 2 Puoi sparare un'altra colpa Che acquisti, eh? Oh, come ti pare a te? Ok Lui ci mette 9 Ok Ti dico una roba Vabbè Attento perché se lui Non gli va in porto Con questo qua Lui Se lo mangiano subito Eh, ma devo superare 2 fiamme In caso Devo fare Appunto Deve fare 1 2 3 Sì Vabbè da qua Tu te lo pigli Sicuro Se io ci vado sopra Non è che te lo prendo La prossima volta che lo muoverai No, la prossima volta che te lo muoverai Tiriamo un dado da 6 Da 1 a 3 lo muovo io Da 4 a 6 lo muovi te Quindi non è che per forza Allora lo metto lì Ok, avevo capito che lo muovete Ok No, no, no C'è sempre la possibilità Perché interferisce nel telecomando Ok Allora Tocca a me Quindi questo è un overwatch E questo qui Uguale Quindi Eh, però questo è in difesa Allora Quando fa prima di start 1 Eh, lì mi fa male Sì, sì 2 e 2 No, 2 e 2 Gemmata l'arma Ma porca Eva Quindi È andato un gemmio Allora, quindi 1, 2, 3 E ora ti attacco 3 dadi e te 1 Non mi è uscito più o 6, eh Morto Ma addio di non santo Quindi Allora, aspetta qui 1, 2 3 3 Poi attaccato col 4 5 e 6 5 e 6 Fai overwatch Eh, mancato 2 3 1 2 Overwatch Ok Sì, ok Finalmente 1 1 Cazzo è desutile Ora, questi due nuovi Allora 1 2 3 4 5 e 6 Vabbè, sarebbero lo stesso Fa venire un pochino Quindi non è stato una gran mossa Quindi 1 2 3 4 5 No 5 e 6 Non attacco 1 2 3 4 5 6 Poi riveliamo questo 3 Quindi sono 1 1 1 E questo è l'ultimo baluard L'ultima difesa del terminetto Il sorgente Cosa si diceva? Quello ha 400 anni morto Vai Manu eh Sto girando più te De Manu Allora 1 Vai in Overwatch L'unica tua speranza Col 6 Allora 2 Giusto? Sì, sì Mi spiace ragazzone Ragazzo Incepata 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 Allora Prima è morto Poi Si difende Cazzo 1 2 Ti attacco Vai Quindi 3 contro 1 Spravviverà a 4 attacchi No Ma vada Oh Sono scarichi Genestealer Morto Eh vabbè Ci ha provato Dai Ci ha provato Almeno 1 L'ha ucciso Con un pugno Vai Toriordi Mortazzo Sì Me lo ricordo Abbiamo 4 punti Giusto? Sì Quindi 2 sarebbe Sì 4 Ok E ha finite le sue azioni Ok 6 Ok 8 Ok E l'ha usati tutti Ok E quello è venuto in qua E direi che non devo far più nulla Quindi c'è una cosa Vai Allora Iniziamo 1 2 3 Corpo a corpo Vale Adesso devono buttarmelo giù Chiaramente Vediamo E me l'ha ucciso Me l'ha ucciso Vai Prima è morto Sarà forte Quello lì Col martello Molto Questa volta Io andrei a sfondamento Aspetta 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 Ma te Ti faccio le nose Prima Tanto un secondo Dammi Sì Te non hai visto questo qui Questo qui con l'artigli Te non hai idea di cos'è quello lì Se quello ti sembra forte Questo è ancora di più Ah già sì Lui è mostruoso Lui è quello più forte di tutti In corpo a corpo 2 di 6 più 1 Tira 2 di 6 più 1 E metti te Se lo metti in difesa Penso Eh È fortissimo Lui spacca Allora Poi Ah e poi non hai visto l'opzionico C'è anche l'opzionico con i poteri Che non c'era in questa missione Anche lui è OP Sì ho visto lì sotto Fa paura Tira fulmini Allora 1 2 2 3 3 3 Vai 4 Sì Quanto ha fatto? È buono Vai Levalo Quindi anche lui Si dava di uno 1 2 3 Dai vecchiaccio Non per i coglioni Continua a dare smazzate È il problema tuo È il più Quel cazzo È di più 2 No 1 e 1 No Il 6 di merda Quindi ha fatto 3 Quale mi levi Quale mi levi Ma vaffan Quanto ti alza? Di 2 Sì Quale mi levi? Eh vai a quel paese Vai Non ti dico Ce l'ho fatto Ce l'ho fatto Madonna che culo Siamo fottosi Eh sì Ah no non siamo Vabbè Allora 3 4 5 6 Non ci arriva però Cosa muore? Madonna che sfiga La barriera sta funzionando Allora Game of Thrones Uso Uso l'ultimo Punto comando Per Togliere il jamming Alla spistola Sì Ok Basta Si riparte Va davanti al coso Ripesca punti Eh la gente Non la fai spawnare Ah Di buono è vero È un li volevi Eh Ma non lo so Se te con li volevi Evidentemente no C'ho paura Eh Ormai tu ti vide Si fa Faccio la orsa Da di là Proviamo dai Eh perché Potrebbe Più che altro Qui Se li metti Dal 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 Ammieri Se quello Resiste Non passano Ah Uno Due Non passeranno Però Ce lo provano Sì E questo Si lascia A parte che penso Che con due Vlip Un Due Tre Quattro Cinque E Vai Nuovo turno Allora Vai Metti E Basta Fine Allora Il mio Prima ti attacca Prima attacco Sarà molto lungo Sto Se tank Eh ma Secondo Dadi Inizio A rompere le scatole È appunto Quello Se inizia A tankare Se attacchi Allora Il primo L'hai parato Vai Andiamo al secondo Non mi fregate Il robottino Che quello è ancora mio Eh Mannaggia Secondo Avevi fatto cinque Il tiro Sì sì Cinque Quello più alto Ok Oddio Me l'ammazza Vaffanculo C'è Lui con due dadi Io con tre Devo perdere Allora Uno Attacco Vai Ma te non sei un terminese Quello è vero E Che c'ho Vai Morta anche Ziondo No vabbè C'è una merda Dai Uno Due Ti ammazzo Dove Ci vorrebbe un pari Così almeno si blocca Avrebbero Di Morto Oh Le ho Dalle balle Quindi ho fatto Uno Due Tre Quattro Tre Quattro Cinque E Sì Sì No No Overwatch Fermo Devi distruggere quello lì eh Mi raccomando Sì Ho perso Perché tanto Anche se muovo questo Non riesco ad andarla a intercettare Perché ho Uno Due Tre Quattro Cinque Sei E Basta Dov'è qui Dove l'hai messo È lì No deve entrare qui dentro Allora forse ce la posso fare E cazzo è vero Allora Uno Due Tre Quattro Cinque Cinque Per gli sgozzoli eh E sei Uno Due Tre Quattro Cinque E sei E sei E vaffanculo Uno Due Tre Quattro Cinque 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 E ti mori Lui è finita Se tutte e due le squadre Sono distrutte È persa Eh Dovevi andare dietro di due Almeno Guarda Uno Due Eh va No Poi Uno Due Senta che ti si potrebbe gemmare Niente Infatti il mio pericolo è tre Sì Era qui È l'ultimo È l'ultimo da fare Uno Due Tre Sì No Gammata Puttana No L'ultimo Dove Quattro Cinque Guarda il culo 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 Sei sicuro Randy? Dove fare te Ti fico Uno Uno Tre Io Quattro Sei voi Vai Poi Lo sai che hai rovinato tutto Te con questa osarelle Scusa Fai vedere un attimo Se tiravo E vabbè Grazie Che cazzo vuol dire È uno Allora Qui c'è un robottino Che fa Uno Due Tre Che sfiga Dai Vabbè Vai Ten sempre il tuo turno Comunque C'ha la maggemmata È appunto Quindi Una cosa lo so L'unica cosa che posso fare È provare Ad ammassare Tutti Spara Rivediti Ne devo ammassare Almeno una Andare in overwatch Eccola la mia unica speranza Allora Quindi Ok È culo di merda Quindi Questo si leva Adesso Spara All'altro E quindi Uso tre azioni Sì Gemmata Niente Ma perché Sparato all'altro Perché se Magari Ne so Io Ammazzavo Un altro Posso andare overwatch Averci anche un altro Allora Arma gemmata C'hai ancora il punto Quell'altro C'ho il punto mio Più quello del Punto comando Ma non mi serve No Vabbè Uso il punto Per Toglierci il jamming E risparo Vai Tanto Cos'è 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 Quello Sperate Di nuovo Ricermata Ricermata Un'altra volta Devo più sapere Vai Turno mio Vediamo un po' Ora se me lo ammazzo Di corpo a corpo Oddio Forse mi conveniva Mettere in Non difesa Forse sì Ma dove è l'ultimo Speravissimo Arrivati al diciottesimo turno Per finire la partita Con Herboli E E